Giù la maschera, questo di fatto dovranno fare tutti coloro che parteciperanno ai corsi mascherati o saranno a bordo dei carri allegorici nei vari carnevali della provincia di Arezzo che ormai sono alle porte. La prefettura ha infatti inviato a tutti i sindaci dei comuni aretini una nuova circolare in vista proprio del periodo carnevalesco. Sicurezza è la parola d'ordine. Secondo quanto indicato nella circolare, in considerazione della particolare delicatezza del momento che impone l'adozione di misure di sicurezza per contrastare il rischio di eventi di natura terroristica, occorre affermare il principio che nelle aree dove si svolgono manifestazioni pubbliche non è consentito l'accesso a persone travisate. Dovrà essere dunque disposto a cura delle organizzazioni un censimento di quanti nell'ambito della manifestazione di carnevale intendono mascherarsi e travisarsi. Al fine di consentire l'effettuazione di iniziative ormai consolidate, quali appunto le sfilate dei carri e le persone in costume, l'organizzazione dovrà farsi garante dell'identità di quanti si maschereranno ed avranno accesso a queste aree previa predisposizione di un apposito elenco. La disposizione dunque non riguarderebbe il pubblico ma soltanto i protagonisti legati all'evento, una normativa che sarebbe già stata applicata l'anno scorso in occasione del carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana.